Statrosa Pristina Ero stato affidato alle cure di un dotto francescano inglese il cui nome era Guglielmo da Pascher V Dunque conserva le tue paure per quello che ti toccherà vedere e non per quello che non vedrai mai Mentre la popolazione degli inferi pareva essersi data convegno in quella sedi moscuna tanto che le rimase intramortito Mai ho vissuto giorni pessime come questi Il giovane corpo di Adelmo, povera, fratili creatura di Dio è stato rinvenuto senza vita Quando? Alle prime luci dell'alba? È morto annegato e non da molto Stavolta non c'è dubbio, riconosco tutti i segni Non vi direi questo se non fosse che anch'io vorrei capire che cosa si nasconde in biblioteca La biblioteca è un immenso labirinto Ho ragione di credere che si tratti di un manoscritto che ho trovato oltre mezzo secolo fa a Silos La paura è il fondamento della fede Possa la grazia divina vegliare su di noi L'amore ha molte proprietà, sai? Femina il mondo! Femina il diabo! No, 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 no! Conosco cosa sento, so, cosa provo, voi siete mai stato innamorato, io, temo di no. Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è l'arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità che non sa cedere mai al dubbio. Tuttavia soltanto i fogli e i bambini conoscono la verità. Renuncia a cercare la giustizia in questo mondo, figliolo, resterai deluso. NAMINE NAMINE NUDA TENEMU